Comandante, siamo in via Mantiglia 18 dove un incendio dall'ora di pranzo ha coinvolto uno stabile. A che punto stanno all'operazione di spegnimento? Dopo due ore di intervento siamo in una fase di contenimento, è stato bloccato sul lato che va verso Corso San Maurizio, lo stiamo ancora confinando sul lato invece verso il po', dall'altra parte, il vetto è bruciato sia delle zone che erano manzate che delle zone che erano sotto tetto libero, ci sono ancora anche un paio di alloggi coinvolti, abbiamo più di otto squadre che stanno lavorando, tre autoscale, un metro di UCL, abbiamo chiamato i droni, del personale anche della Polizia Giudiziaria che sta anche sentendo i testimoni in modo da capire dalle prime informazioni qualcosa, ma comunque per adesso siamo concentrati sull'intervento soprattutto perché c'è il forte vento che ci spinge l'incendio in senso contrario, quindi ci crea ostacolo.